Se 5 anni fa avessi deciso di investire sul principale indice cinese, oggi mi troverai con una bella perdita del 35%. Di certo come investitore non potrai essere soddisfatto, visto che nello stesso periodo di tempo indici come l'S&P 500 hanno avuto rendimenti superiori al 60%. Anche per giganti come Alibaba la situazione non è diversa. Negli ultimi 5 anni oltre il 60% di perdita. Ma quali sono le principali cause di questa enorme differenza? In fondo stiamo parlando della prima e della seconda economia al mondo. Da cosa è generato questo enorme divario? Ma soprattutto, sarà in grado di produrre buoni rendimenti nei prossimi anni? Tra poco entreremo nei dettagli e faremo alcuni ragionamenti sulla Cina, ed un'analisi sui punti di forza, di debolezza e anche dei potenziali rischi che si nascondono sull'economia del dragone. Quindi seguiteci fino alla fine, mettete un like al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, iniziamo subito partendo da un dato fondamentale per capire se un paese sta crescendo, ovvero il prodotto interno lordo. Il PIL, ragazzi, sta crescendo, su questo non c'è dubbio. Questo grafico prende in esame gli ultimi 12 anni e notiamo un rallentamento della velocità con cui la Cina sta crescendo. In parole povere, cresce sì, ma ha un ritmo sempre più lento. A inizio 2011 il paese cresceva quasi a doppia cifra anno su anno, mentre ora si può dire che la crescita si sia praticamente dimezzata. Ma quali sono le cause principali di questo rallentamento? In primo luogo sicuramente non si può dire che la Cina sia un paese giovane, ed il progressivo invecchiamento della popolazione va a colpire pesantemente le casse dello Stato. Guardate questa tabella pubblicata dall'ONU, che mostra le prospettive della popolazione cinese per i prossimi anni. Le stime mostrano un'età mediana che entro il 2040 dovrebbe raggiungere i 48 anni, superiore quindi all'Italia che come sappiamo non è proprio un paese giovane. Ma quello che preoccupa di più, ragazzi, è l'enorme quantità di persone che si stima supereranno i 60 anni di età entro il 2050. Stiamo parlando di oltre il 45% dell'intera popolazione cinese. Questo che cosa vuol dire? Beh, se ci pensate bene, un invecchiamento progressivo della popolazione porta ad una minore forza lavoro, un calo generalizzato della produttività e anche un peso molto ma molto più elevato per le casse dello Stato, che dovrà inevitabilmente provvedere all'erogazione delle pensioni senza però avere un introito sufficiente proveniente dai contributi. Quindi, se ci ragioniamo un attimo, è lo stesso problema che stiamo affrontando anche noi in Italia proprio oggi. Il governo infatti sta provvedendo all'erogazione di sussidi per stimolare la natalità. Segno che questo problema deve essere assolutamente risolto prima che diventi irreversibile. Sicuramente per la Cina è una situazione ancora più complicata perché, a differenza nostra, hanno anche avuto delle leggi che proibivano di avere più di un figlio. Questo probabilmente ha lasciato un segno indelebile nella società e nonostante l'abolizione di questa politica nel 2013, le conseguenze si notano ancora oggi. Un altro problema della Cina riguarda il calo delle esportazioni. Guardate questo grafico che va a prendere in esame gli ultimi 5 anni. Questo calo è dovuto a una serie di fattori, tra cui il rallentamento dell'economia globale, la guerra commerciale con gli Stati Uniti e anche l'aumento del costo del lavoro in Cina. Dati inferiori rispetto alle aspettative portano alla svalutazione della moneta nazionale e le conseguenze, ragazzi, le conosciamo bene. Se la moneta si svaluta, aumenta il cambio, ovvero la quantità di moneta nazionale necessaria per acquistare un'unità di moneta estera. Negli ultimi mesi abbiamo sempre sentito una sola parola. Inflazione. Bene, in Cina, ragazzi, abbiamo l'esatto opposto, l'inflazione con valori negativi. Parliamo quindi di deflazione, quindi un calo generalizzato dei prezzi. Nel 2022 l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,3%. A differenza di quanto si possa pensare, la deflazione non è sempre un fenomeno positivo, perché spesso porta ad una diminuzione dei consumi, un calo della domanda e anche un crollo degli investimenti. Altro argomento importante, ragazzi. Nel nostro paese sentiamo spesso parlare di NEET, sigla che sta ad indicare i ragazzi che tra i 15 e 29 anni non stanno studiando né lavorando, o anche che non seguono dei percorsi di formazione. Questo fenomeno è estremamente grave per un paese, perché va a perdere forza lavoro potenzialmente produttiva. Anche la Cina non è esente da questo problema, infatti nel 2022 il tasso di disoccupazione giovanile ha toccato il 20%. Questo numero è il più alto dall'inizio delle registrazioni del 2018. L'elevato tasso di disoccupazione giovanile è dovuto a una serie di fattori, tra cui il calo dei posti di lavoro in un settore fondamentale, come quello manifatturiero, ma anche alla mancata corrispondenza tra le competenze della forza lavoro e le esigenze dell'economia reale. Infine ragazzi, non si può non parlare del debito. Adesso vi faccio vedere un grafico del 2021, che evidenzia il rapporto del debito PIL nei diversi paesi. Beh, si può dire che la Cina non era messa poi così male. La vedete in basso a sinistra con un rapporto debito PIL vicino al 70%. Bene, ci credereste se vi dicessi che in questo momento il rapporto debito PIL la mette al secondo posto solo dopo il Giappone? Con un rapporto del 250% e un valore assoluto di 51.000 miliardi di dollari? Effettivamente sembra davvero impossibile, però è così ragazzi. A seguito della crisi Covid, la Cina ha adottato alcune politiche che si sono rivelate veramente dannose per il debito. Oltre a queste, si è verificata anche la bolla del debito immobiliare, che ormai da anni sta crescendo in Cina. Nel 2022 il debito totale degli sviluppatori immobiliari in Cina era di oltre 7.800 miliardi di dollari. Insomma che sul PIL del paese pesa veramente moltissimo. E come abbiamo detto in diversi video, un crollo totale del settore immobiliare cinese avrebbe delle ripercussioni veramente gravi sull'intera economia mondiale. Ma che cosa sta facendo la Cina per ridurre questo macigno? Beh, in primo luogo sta intervenendo in maniera molto pesante sulla politica fiscale con diverse riforme. Oltre a questo sta applicando un sempre maggior controllo sui sistemi bancari collaterali, le cosiddette banche ombra. Ovvero l'insieme degli scambi che consentono forme di finanziamento alternative rispetto ai tradizionali enti creditizi. Si sta lentamente aprendo al mercato, rivedendo le proprie leggi sulla trasparenza del sistema finanziario. Ma soprattutto sta controllando molto più attentamente le amministrazioni locali, perché il rischio corruzione del paese rimane estremamente alto. Ma quindi ragazzi, dobbiamo preoccuparci? La Cina sta attraversando un periodo particolare dove il PIL cresce, anche se più lentamente rispetto al passato. Ma i mercati azionari sono in profondo rosso negli ultimi 5 anni. Quello che manca in questi casi è spesso la fiducia, sia nel sistema del suo complesso, sia in alcuni attori, come ad esempio il governo, che hanno dimostrato di avere un ruolo cruciale nel condizionare l'economia del paese. Ci sono anche grandi trasformazioni in atto, come il maggiore indebitamento, l'invecchiamento della popolazione e la disoccupazione, che hanno mutato lo scenario rispetto a prima. Se guardiamo le quotazioni, le aziende cinesi paiono essere più a buon mercato rispetto alle competitor europee o americane. Ma ovviamente gli investitori non si fermano qui, perché più a buon mercato non vuol dire necessariamente che sia un buon affare. La domanda quindi diventa, gli investitori sono disposti a dare maggiore fiducia alla Cina? Oppure no? Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, altrimenti probabilmente saremmo tutti milionari. Ma ci piacerebbe molto vedere anche il vostro parere nei commenti. Quindi fatevi sotto che è sempre bello confrontarsi con altre persone appassionate in un certo argomento, proprio come noi. Questo ragazzi è davvero tutto, noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Ingegneri in Borsa. Ciao ragazzi!